Allora, oggi parliamo dei prodotti preferiti del mese di gennaio e non sono tantissimi prodotti perché non mi va di farvi una carrellata infinita di prodotti perché ovviamente non ho utilizzato solo quelli che vi faccio vedere però vi voglio parlare, insomma, vi mostro quelli che sono stati più rappresentativi che mi sono piaciuti di più, anche se magari non li ho utilizzati proprio per tutto il mese di gennaio e quindi partiamo subito, vi faccio vedere io partirei con un argomento molto caldo che vi piace tantissimo quindi partirei con i profumi e questo profumo ve l'ho citato veramente in tantissimi video però ci sono dei periodi in cui lo uso, dei periodi in cui lo uso di meno dei periodi in cui lo uso veramente tutti i giorni ed è il famosissimo Nuxe Prodigole Parfum che è la versione profumo del famosissimo olio viso, corpo e capelli e questo è un profumo che appunto viene venduto nelle farmacie, nelle parafarmacie la marca appunto è la Nuxe Paris e in tante associano questo profumo alla stagione estiva in realtà secondo me questo è un profumo per tutte le stagioni io lo utilizzo veramente sempre, in tutto l'arco dell'anno insomma cerco di centellinarlo perché anche questo ha un suo costo e mi piace perché è un profumo, come dire, sì floreale ma anche fruttato poi ha queste note finali che sono quelle veramente che io apprezzo di più nei profumi che sono quelle della vaniglia e del latte di cocco che lo rendono molto molto particolare e mentre ha questo, come dire, ingresso, queste note iniziali abbastanza fruttate anche di bergamotto lo sentite veramente molto molto intenso all'inizio, molto pungente e ripeto, questo sentore di vaniglia, di latte di cocco mi fanno pensare all'estate ma mi piacciono comunque in questa stagione perché mi fanno sentire addosso un profumo che è molto caldo, coccoloso quindi questo super preferito di questo mese il secondo profumo è un profumo super super economico quindi vi ho mostrato un prodottino che sta nell'ordine dei 50 euro invece quest'altro acquistato da Lidl ed è il Suddenly Madame Glamour questo qui, che mi pare che costi intorno ai 4,29 euro, 4,49 euro comunque al di sotto dei 5 euro e questo è un profumino di cui ho sentito parlare la Martina del canale 91 Martina S comunque la saluto, le mando un grossissimo bacio e dicono essere il dupe di Chanel Coco Mademoiselle in realtà io quel profumo l'ho avuto e posso assolutamente garantirti che sembra lo stesso la cosa che mi piace molto e per cui mi sento insomma di regalargli un attimino di tempo è il fatto che pur essendo un prodottino super economico ha una persistenza pazzesca nel senso quelle 6 ore che già per un profumo sono abbondanti ve lo sentite comunque sempre addosso questo in realtà ha una profumazione sì, abbastanza fresca come dire, bella, frizzante, allegra ed è perfetto per la stagione estiva però ripeto, io non tendo mai a categorizzare quindi una mattina mi sveglio e decido che voglio indossare questo profumo anche se è stata estate e niente, mi è piaciuto moltissimo si vede, insomma, che l'ho utilizzato parecchio e questo vi consiglio di andare ad annusarlo perché è veramente buono dopodiché passerei a qualche prodottino per i capelli come avete visto io ho fatto un po' un cambio look adesso li ho nuovamente scalati e poi come potete vedere ho schiarito le punte in una sorta di chatouche e quindi insomma ho comprato un pochino di prodottini per la cura dei capelli, per lo styling e così via in questo video però vi mostro i prodotti che mi hanno sorpresa di più che ho utilizzato e che sto utilizzando tanto ho comprato anche il ferro per arricciare i capelli quindi ogni tanto insomma tolgo i miei riccioli per fare un po' questo effetto onde premetto che non sono un amante della lacca però ho provato questo prodottino che ho acquistato al tulipano che mi è piaciuto molto non so se voi lo conoscete si chiama Shine Fixer la marca è Biacree ed è una lacca anticrespo ai semi di lino e questa è la confezione ed è un prodotto che è fissa e lucida io in realtà l'ho acquistato per questo contiene filtro solare, non contiene solventi e non contiene gas mi piace perché non ha l'effetto della classica lacca che praticamente ferma i capelli li fa diventare come la paglia ma fissa proprio un fissaggio proprio leggero proprio per questo tipo di acconciature la cosa che mi piace è che lucida il capello il capello appare bello brillante non appesantito basta spazzolare e l'effetto di questa lacca va via mi pare di averla pagata intorno ai 7 euro e mi capita di spruzzarla anche magari qui sulla parte per far mantenere un pochino il ciuffo e assolutamente non me lo blocca non me lo fissa, me lo lascia comunque sempre con un effetto molto naturale e molto morbido il prossimo prodotto che è stata una piacevolissima scoperta è questo prodottino dei Provenzali sono i cristalli liquidi ai semi di lino senza siliconi allora sappiamo perfettamente che in commercio la stragrande maggioranza dei prodotti per capelli a partire dai cristalli liquidi sono dei prodotti siliconici che io non demonizzo assolutamente perché io per prima utilizzo tanti prodotti che contengono siliconi, parabeni che non sono appunto prodotti bio che non sono di origine vegetale, naturale e tutto il resto io utilizzo e acquisto i prodotti che mi piacciono con cui mi trovo bene molti li acquisto solo ed esclusivamente per provarli poi magari sono, come dire, il resto soddisfatto dell'acquisto e tante altre volte no questo è un prodotto che mi piace tantissimo perché ovviamente non avendo siliconi i semi di lino, l'acido lino oleico vanno a penetrare e a nutrire il capello a dare lucentezza, a ristrutturarlo a togliere l'effetto grespo e a prevenire l'effetto delle doppie punte mentre i prodotti siliconici creano questa barriera che è semplicemente uno schermo che si crea tra il capello e il prodotto quindi alla fine non è un trattamento di bellezza ecco, lì per lì ha la funzione di rendere il capello bello luminoso, lucente mentre questo è proprio un vero trattamento di bellezza tra l'altro per i capelli tra l'altro mi piace moltissimo la profumazione che rimane molto fresca e molto delicata perché ho utilizzato altri prodotti ai semi di lino e non mi sono piaciuti per niente questo è un prodottino che si può tranquillamente trovare al tulipano, ticotà, acqua e sapone insomma un po' ovunque dopodiché volevo citarvi un altro prodotto che ho acquistato sempre al tulipano della linea Omia ed è un non sapone ecobiologico sia da utilizzare, si può utilizzare per le mani e per il viso e questo nello specifico è all'aloe vera questo è un prodotto certificato ICEA che non contiene parabeni, SLS, PEG coloranti sintetici insomma conosciamo tutti i prodotti di Omia che sono comunque formulati abbastanza bene e questo in particolare per pelli secche e delicate la cosa che mi piaceva era l'idea di poter avere a portata di mano sul lavandino un prodotto che fosse diciamo perfetto sia per lavare le mani che per lavare il viso volevo insomma un'alternativa al classico detergente per il viso e devo dire che mi sta piacendo tanto è un prodottino che non mi irrita assolutamente la pelle non la irrita diciamo che quando poi vado ad asciugare il viso sento un pochino il viso tirare però ovviamente poi applico una crema idratante e quindi il gioco è fatto ed è un sapone a base di gel di aloe e agisce sulla cute del viso e delle mani senza impoverirne le naturali difese io devo dire la verità era un'offerta a 1,98 euro se non sbaglio e mi sto trovando molto molto bene anche sulle mani mi piace perché io lavo spesso spesso le mani però vedo che insomma non me le irrita non me le secca più di tanto prossimo prodottino di cui vi parlo questa volta parliamo di un prodotto per il viso prodotto che vi avevo già citato in qualche altro video ma che ho ripreso perché ho intenzione di smaltire un po' di prodotti questa è una crema che io in realtà avevo acquistato per utilizzarla come crema notte perché essendo una crema nutriente quindi un po' più corposa pensavo di utilizzarla la notte ma in realtà ho deciso di utilizzarla in quest'ultimo periodo proprio come crema da giorno e come base per il trucco e devo dire che sono rimasta piacevolmente soddisfatta è la crema nutriente viso al burro di karité un burro di karité assolutamente biologico di Omia Botanica vedete? questa è una crema molto ricca molto nutriente molto corposa lì per lì quando voi l'andate ad applicare però si asciuga perfettamente rende la pelle molto molto elastica e soprattutto mi piace perché io posso tranquillamente utilizzarla proprio come base per il trucco perché comunque tende a non farmela lucidare vedo che il trucco si mantiene perfetto per tante ore del giorno e sento la pelle bella liscia nutrita io adoro il burro di karité mi piace il suo utilizzo sulle mani soprattutto sui talloni, i piedi è veramente molto nutriente e ristrutturante e quindi io questa ve la straconsiglio in questo caso parliamo appunto di un prodotto vi dico quello che c'è scritto soffice e vellutato questo ve l'ho detto e volevo dirvi che la sua formulazione viene resa molto più delicata dalla presenza di estratti sempre naturali di acque distillate di arancio, di rose di amamelide quindi è anche un prodotto oltre che nutriente ristrutturante è anche molto lenitivo quindi promossissimo anche questo prossimo prodotto che riguarda la cura per il corpo questo è un prodotto che mi era stato regalato da mia cognata e che non avevo utilizzato perché avevo aperti tantissimi flaconi di creme e cremine per il corpo però ho deciso di utilizzarlo in questo ultimo periodo questo prodottino perché ho la pelle particolarmente secca soprattutto sulle gambe le ginocchia i gomiti perché ovviamente magari queste parti vanno tanto essendo che siamo sempre coperti diversamente dall'estate vanno tanto a sfregare con i tessuti almeno a me tendono proprio a seccarsi e quindi sto utilizzando questa crema Outermal della Venn si chiama Cold Cream ed è un latte per il corpo per pelli sensibili e secche questa qui allora è innanzitutto come vi dicevo una crema nutriente scusate ed è contiene un'altissima quantità di acqua termale di Aven quindi comunque è una crema seppur nutriente molto molto fluida molto leggera che si assorbe facilmente non pensiate che è un prodotto bio perché non ha un ottimo inci perché all'interno troviamo la paraffina e via dicendo però devo dire che io mi sto trovando bene perché ho sia la pelle dei gomiti delle gambe delle ginocchia veramente molto nutrita molto più elastica e molto meno secca ovviamente ed è un prodotto che però non contiene parabeni nel senso che hanno cercato di ovviare alla presenza di tante altre cose con l'assenza dei parabeni non è un prodotto che ha una profumazione eccezionale devo essere sincera è un profumo non profumo quindi è una cosa non come dire che non si sente non è una crema corpo profumata ha una profumazione molto delicata molto leggera che svanisce subito però l'effetto che ha sulla mia pelle io lo promuovo al 100% prossimo prodotto parliamo prossimi prodotti si l'ho fatto vedere tutto parliamo di make up allora come non citarla ve ne ho già parlato ampiamente in un video ho fatto anche ho realizzato così un make up per farvela vedere all'opera da quando me l'hanno regalata io sono impazzita per questa palette ed è la Zoeva la Cocoa Blend famosissimissima alla quale io sono arrivata veramente molto molto tardi perché diciamo è un prodotto che esiste ormai da parecchio tempo ed è una palette meravigliosa a partire già dalla confezione così in cartone pratica molto pratica io ho tenuto anche la sua custodia in maniera tale che se devo portarmela in borsa in viaggio posso tranquillamente farlo è una palette che diciamo basta solo lei nel senso che ha tutte quelle colorazioni che sono necessarie per poter fare un trucco da giorno per uscire la mattina andare a far la spesa un trucco da sera più glamour più sofisticato con qualche colore shimmer con qualche colore un po' più sbrilluccicoso mi piace moltissimo ombretti pigmentati sfumabilissimi mi piace proprio la sfumabilità di questi ombretti e anche la durata che ho avuto modo di testare sia con primer che senza primer e offrono diciamo una tenuta veramente eccellente e quindi dovevo promuoverla per forza poi abbiamo due prodotti per il viso aspettate perché nel frattempo mi sono smarrita qualcosa no ok tutto qui due prodotti per il viso allora uno che non mi ricordo se ve ne ho già parlato ma avevo intenzione di farlo perché secondo me è un prodotto ottimo che può andare incontro a varie esigenze sia a livello economico che a livello proprio di performance del prodotto ed è questo fondotinta debbie matte and perfect mousse foundation oil free e in ogni caso se ve ne ho già parlato ve lo ripropongo perché è un prodotto che io sto utilizzando tantissimo allora questo è un fondotinta in mousse come ce ne sono in tanti vedete bello utilizzato questo ed è ideale per le pelli misto-grasse per delle pelli con magari delle piccole imperfezioni ed è un prodotto di quelli proprio velocissimi facilissimi da usare innanzitutto lo trovo uno molto coprente poi ha una durata veramente ottima quindi le sue otto ore se le fa bello tranquillo al suo posto mi piace perché dà questo effetto vellutato matt ma non eccessivamente come dire cupo troppo coprente troppo cipriato rimane comunque molto naturale la cosa che mi piace è che si può stendere io lo stendo tranquillamente con le dita come se applicasse una crema è facilissimo da usare cioè con un prodotto del genere quindi che ha una facilità di stesura ci possiamo tranquillamente truccare anche in macchina mentre ci guardiamo sullo specchietto retrovisore ci trucchiamo veloci veloci con questo prodotto non abbiamo bisogno di spugnette di pennelli lo stendiamo tranquillamente con le dita e soprattutto si stende molto facilmente non fa strato e parliamo di un prodotto che sta intorno ai 5 euro comunque non più di 6 euro poi dipende da dove lo andate ad acquistare non esistono tantissime profumazioni quella che ho preso io è la 04 matte onei che non è proprio chiarissima ma ho visto che esistono delle tonalità veramente molto chiare e niente è un prodotto che mi piace veramente tanto soprattutto l'idea di avere un prodotto che come dire accontenta un po' tutte le esigenze cioè può essere acquistato dalla ragazzina che inizia a truccarsi perché effettivamente non costa tantissimo può essere acquistato anche da una persona che non ama spendere troppi soldi per i cosmetici e comunque avere un buon prodotto che offre diciamo un risultato ottimo poi un prodotto che ho praticamente riscoperto in quest'ultimo periodo ne ho diversi ma questo in realtà è stato uno di quelli che ho acquistato con grandissimo entusiasmo è un blush minerale di Neve Cosmetics vedete questi qui nella colorazione Noblesse e qui parliamo di un prodotto fantastico perché è un blush che ha una colorazione molto 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 particolare che adesso spero di riuscire a farvi vedere è un blush di un color malva che ha delle sfumature argento violace che è qualcosa di pazzesco adesso vediamo se io riesco a farvelo vedere non credo ecco forse sì vedete la cosa che mi piace di questo blush adesso cerco di metterlo sul centro della mano come vi dicevo la cosa che mi piace di questo blush è che secondo me è perfetto anche per chi ama ecco adesso sì dovrebbe vedere per chi ama gli illuminanti perché questo è un blush che ha una luminosità pazzesca con queste sfumature tendenti all' all'azzurro violaceo quindi è un blush che vi dà questo effetto bello rosato sulle guance ma anche un effetto molto glow molto illuminante io lo trovo veramente bellissimo lo sto usando in questo periodo ma secondo me questo nel periodo della primavera estate è fantasmagorico guardate quanto è bello è bello 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 e questo è uno dei prodotti un altro dei prodotti make up che volevo farvi vedere aspettate un attimo perché altrimenti qua combino un macello e poi vediamo se indovinate un po' i prossimi prodottini che devo farvi vedere e che devo promuovere in assoluto in quest'ultimo periodo chissà cosa saranno sono due rossetti liquidi tinte labbra come li vogliamo chiamare allora ve li faccio vedere subito il primo è un rossettino liquido di Glossip di cui vi ho postato anche una foto su Instagram allora i rossettini in questione è questo qui e il numero è 07 non so se si riuscirà a vedere sì mi sa di sì ed è questo bellissimo rosa rosa malva allora tanto vi faccio vedere classico applicatore spugnetta mai sono tutti così mamma è stupendo guardate che meraviglia di colore è bellissimo allora non è né troppo liquido né troppo cremoso quindi è molto molto facile da stendere ha questo colore bello pieno subito quindi non dovete passare chissà quante volte il prodotto perché già con la prima passata avete perfettamente riempito le labbra e mi piace mi piace perché ha un bel effetto duraturo non si sente sulle labbra molto leggero e si asciuga perfettamente come tutti i rossetti liquidi ad effetto ultra matt ovviamente secca le labbra quindi vi ricordo sempre burro cacao a volontà per tenere sempre le labbra idratate per non avere poi quell'effetto troppo di righette sulle labbra bellissimo colore costa intorno ai 9 euro l'unica pecca è che si trova solo almeno qui da me non avendo un punto vendita gloss riesco a trovarlo soltanto nei negozi non so motivi fiorella rubino questa catena qui ecco fantastico mi piace un sacco e poi un altro che è un amore pazzesco per questo rossetto ed è un rossetto liquido di Too Faced della linea Melted Matte vedete questi qui fantastico questo rossetto bellissimo e ringrazio Mr. Daniel Makeup per avermelo fatto scoprire in realtà non proprio il prodotto in sé per sé ma la colorazione lui non mi vedrà mai ma io lo ringrazio lo stesso e questo qui è la colorazione sell out che adesso ovviamente vi faccio vedere vedete qui classicissimo scovolino e ve lo metto qui mamma che cos'è adesso ve lo faccio vedere perché comunque è quello che ho indosso guardate e questo è un marroncino aranciato che è qualche cosa di meraviglioso guardate che bellezza questo rossetto è bellissimo questo rossetto favoloso anche questo mi ripeto la stessa cosa né troppo cremoso corposo né troppo liquido facilissimo da stendere pigmentazione estrema leggerezza sulle labbra si asciuga subito lunga tenuta bellissimi tutti e due io sono in fisso ultimamente con questi colori e quindi sono questi colori che vi faccio vedere e sono quei prodottini veramente che sto usando proprio tutti i giorni dunque ragazze 22 minuti di video yeah allora io vi ringrazio insomma per aver visto il video spero di avervi tenuto un po' un po' di compagnia come sempre vi dico fatemi sapere se conoscete già questi prodotti se vi siete trovati bene se vi siete trovati male se avete sempre dei prodotti da consigliarmi fatemi sapere se vi è piaciuto il lavoretto che ho fatto qui sui capelli spero che non si rovinino col tempo e niente insomma vi mando come sempre tanti baci ancora grazie e se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao